Io ho sempre sostenuto che il Teatro Romano è il Teatro del Sanni, il Teatro dei Beneventani è un luogo di cultura e il calcio è lo sport e cultura, quindi anche la serata di stasera rafforza quello che è la mission di questo luogo. Poi la verità è che stasera è stata una serata eccezionale con la presenza di personaggi del mondo dello sport ma che hanno una visione e una sensibilità per la cultura tale da avere immaginato che si potesse celebrare un risultato uno straordinario risultato all'interno di un luogo come il Teatro Romano di Benevento che ha una sua suggestione che tra l'altro come dicevano dal palco alcuni degli intervenuti è un luogo che rappresenta la storia di Benevento a partire dalla Romanità ma che accompagna Benevento nella storia e il calcio Benevento oggi è storia.